Martedì 8 gennaio 2019, ottavo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La chiesa ricorda San Massimo di Pavia. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimiano. Il nome, derivato da Massimo, è di origine latina e significa grandissimo. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione. E la pietra associata a questo nome è il Topazio. Accadde oggi. L'8 gennaio del 1930, a Roma, il principe Umberto di Savoia sposa la principessa Maria José del Belgio. Il suo nome italianizzato era Maria Giuseppina di Savoia, ma lei non lo volle mai usare nemmeno nei documenti ufficiali come l'atto di matrimonio. Fu l'ultima regina d'Italia e poiché il suo regno durò solamente pochi giorni, dal 9 maggio al 10 giugno 1946, venne soprannominata dagli italiani regina di maggio. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il cantante inglese David Bowie, nato a Londra l'8 gennaio 1947. Attivo dalla metà degli anni 60, Bowie ha attraversato cinque decenni di musica rock, reinventando nel tempo il suo stile e lasciando tracce indelebili che hanno influenzato moltissimi artisti. Oltre all'attività di cantante, Bowie ha avuto un ottimo successo anche come attore. Tra i titoli al suo attivo ricordiamo L'uomo che cadde sulla terra, Furio e Labyrinth. Muore a New York il 10 gennaio del 2016. Le frasi del cinema. Occorre notevole ardimento per affrontare i nemici, ma molto di più per affrontare gli amici. Da Harry Potter e la pietra filosofale. Proverbio del giorno. Quando soffiano i venti del cambiamento qualcuno costruisce muri, altri costruiscono mulini a vento. Proverbio cinese.